Salve a tutti, io sono Carlo Ballantini e benvenuti a questa serie di guide sull'utilizzo di logic in italiano. Le guide sono in italiano perché logic, come ben saprete, non è localizzato nella nostra lingua, anche se non è a parer mio un grosso problema, nel senso che utilizzare un programma di produzione musicale pur senza conoscere la lingua inglese, non è poi così difficile. I termini sono pochi e tecnici, quindi non è necessaria una profonda conoscenza della lingua straniera. Bene, comunque andiamo subito nel vivo dei nostri tutorial. La prima cosa che affrontiamo è l'utilizzo delle cartelle in un progetto di logic. Cioè andiamo subito a creare un nuovo progetto e quindi su file, qui logic era già aperto come vedete dalla barra in alto, e su new. Questa è la prima finestra che ci troviamo davanti. Divisa in due parti, a sinistra abbiamo quattro cartelle e a destra abbiamo i templates, cioè dei progetti preconfezionati che contengono al loro interno delle tracce o degli strumenti già preimpostati. Su explore sono raggruppati quelli per divertirsi a esplorare i timbri di chitarra o gli strumenti virtuali presenti in logic. Su compose sono invece quelli dedicate alla composizione, divisa per i vari generi musicali. Su produce, quelli dedicati alla produzione musicale, quindi diciamo più indirizzati verso i fonici o verso il tecnico che sta dietro la console mixer. E se ormai i template ci sono degli eventuali template che creiamo personalmente. Io vi consiglio di divertirvi a curiosare, a girare tra questi templates, anche se non siete interessati alla musica hip hop ad esempio, divertitevi pure ad aprirlo e a vedere quali strumenti vengono caricati, il modo di utilizzare le finestre, di organizzare proprio gli screenset di logica, perché può essere molto utile se uno potrebbe scoprire cose che magari neanche immaginerebbe. Quindi indipendentemente dal genere musicale, questo vi consiglio di girellare un po' da soli. Comunque veniamo a noi e creiamo un progetto vuoto, all'interno di ogni cartella c'è comunque in alto empty project, che serve per creare un progetto vuoto da zero. Ovviamente logic non prevede che ci possa essere un progetto senza almeno una traccia, quindi la prima cosa che ci propone è di creare una nuova traccia. Analizzeremo in seguito queste opzioni qua, cosa servono e nel dettaglio. Intanto comunque diamo una veloce occhiata qua, ci chiede quante tracce vogliamo creare, possiamo cambiare qua questo numero e di che tipo. Le tracce in logic sono fondamentalmente di tre tipi. Le tracce audio, contenente materiale registrato dall'esterno, materiale audio, quindi strumenti, microfoni, che siano voci, percussioni o quant'altro. Strumenti virtuali, quindi software instrument sono quelli in cui è il nostro computer a generare il suono, quelli che GarageBand chiama generatore di suono, quindi batterie elettroniche, pianoforti, violini o quant'altro, che è il computer stesso tramite dei plug-in a generare. External MIDI invece è dedicato a strumenti MIDI esterni, batterie elettroniche, moduli expander, comunque moduli esterni controllati tramite un'interfaccia MIDI e un cavo MIDI, ma comunque completamente esterni. Adesso creiamo una traccia audio. Qua ci sono alcune opzioni che poi vedremo meglio. Ecco abbiamo la nostra prima traccia audio. Qua su c'è Untitled, cioè ancora il progetto non ha un titolo e quindi dobbiamo per prima cosa salvarlo. Vi consiglio di farlo come prima cosa in modo da tenere il vostro hard disk organizzato. Andiamo su Save e ci troviamo qua in una classica finestra di salvataggio, dove qua su sceglieremo il nome e quindi Tal. Qua c'è il posto dove vogliamo salvarlo. E questa casella di spunta, Include Assets, invece mi stabilisce che lui creerà, che logica creerà una cartella contenente il mio progetto. Spegnendo questa cartella, questa opzione, lui salverà solo il progetto chiamato Tal, mentre con Include Assets lui creerà una cartella chiamata Tal, al cui interno ci sarà il progetto. Con questa prima opzione, Logic si preoccuperà di copiare all'interno della cartella tutti i file audio esterni trascinati in qualche modo dentro il progetto. Anche con un semplice drag and drop, lui si preoccuperà di copiarlo anche nella cartella. Con questa seconda opzione, lui copierà anche gli strumenti AXS utilizzati nel progetto. AXS è il campionatore incluso all'interno di Logic. Con Copy Ultrabit, Ultrabit è la batteria elettronica. Space Designer è invece il Convolution Reverb, incluso in Logic, e quindi eventuali impulsi di risposta di ambienti utilizzati nel progetto verranno copiati all'interno di questa cartella. e poi abbiamo addirittura la possibilità di copiare eventuali film, eventuali filmati all'interno di questa cartella. Spuntando questa, come vedete, lui mi chiede subito se sono sicuro perché questa cosa occuperà molto spazio. E io dico, va bene, allora niente. Allora, questa qua di solito la tengo sempre spuntata perché può capitare di trascinare un file all'interno di Logic e così senza dovermi preoccupare da dove l'ho preso, se era da un'email, da una penna USB, da un harddisk esterno, sono sicuro di averla all'interno del progetto. Queste altre tre opzioni, possiamo lasciarle vuote fino a che utilizziamo strumenti o campioni Ultrabit o impulsi di risposta Space Designer standard di Logic. Cioè, una qualsiasi installazione standard di Logic prevede certi strumenti, certi campioni, certi ambienti di riverbero. Se noi ne abbiamo creati poi di personalizzati e abbiamo intenzione di spostare il progetto da un computer ad un altro, allora forse sarà utile spuntare anche queste opzioni qua. Altrimenti, diciamo che potremmo anche lasciarle in bianco, nel senso che finché utilizziamo strumenti standard e i computer in cui ci muoviamo hanno un'installazione standard, troveremo in ogni computer questi stessi strumenti, questi stessi campioni di batteria e questi stessi impulsi di risposta. Qua, qua giù c'è Hide Extension se vogliamo evitare che lui aggiunga .logic e salvo il mio progetto. Adesso vedete che qua su il nome è Tal, il nome del progetto. Allora, adesso lo chiudo e vediamo che nella scrivania si è creata una cartella chiamata come il mio progetto. Al cui interno c'è il progetto stesso è una cartella Audio Files. Qui verranno salvati tutti gli audio files utilizzati durante il progetto. Verranno create anche altre cartelle probabilmente. Comunque tutto ciò di cui abbiamo bisogno per lavorare questo progetto sarà all'interno di questa cartella. Basterà fare doppio clic sul progetto e ce l'abbiamo automaticamente pronto da utilizzare. Grazie a tutti.